Hanno preso carta e penna ed hanno scritto una lunga lettera alla Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Loro sono le rappresentanti del coordinamento donne per il territorio di Gela. E' con forza e determinazione che intendiamo rappresentare, scrivono, la voce, il dolore ed il coraggio delle donne della nostra città. Siamo le madri, le figlie, le compagne, le sorelle dei lavoratori e dei disoccupati di Gela. Siamo cittadine di un territorio offeso e umiliato. In Sicilia, in una terra martoriata e atrofizzata che tuttavia non riusciamo a smettere di amare. Alcune di noi sono nate a Gela, altre sono arrivate dopo per seguire i propri padri, mariti, compagni che avevano trovato un lavoro in questa città. Alcune di noi si sono anche ammalate qui. Molte altre hanno, malgrado tutto, deciso di restare per regalare alle generazioni future una terra pulita, una terra di sviluppo, una terra da amare, senza tutte le riserve che hanno opposto le nostre menti e i nostri cuori estremati. Alcune di noi sfidano con coraggio la crisi occupazionale che ha investito Gela nell'ultimo decennio. Molte altre, infine, sono state sconfitte dalla malattia ed oggi intendiamo rappresentare anche i loro pensieri. A Gela, scrivono ancora, per mezzo secolo la parola lavoro è stata spesso inevitabilmente accompagnata dal nome del colosso vedro al chimico Eni. Il miracolo della rinascita è durato poco, finché non ci si è accorti che si trattava di un'industrializzazione distorta, priva di sviluppo e di progettualità territoriale. La ricchezza non ha prodotto benessere di lungo periodo. Turismo, agricoltura e pesca, tutte le risorse endemiche della città sono state rese marginali nel piano di sviluppo. Infine, accantonate. È una Gela senza. Abbiamo sperato, abbiamo creduto nella possibilità di una terra di lavoro, di una terra di salute, abbiamo creduto alle promesse di riconversione del polo e abbiamo sollevato domande, chiesto risposte. Il silenzio è assordante. Durante quest'ultimo mese le cittadine e i cittadini di Gela hanno assistito all'ennesima danza disperata di un tavolo che promette lavoro e bonifiche e che poi sparisce dietro continui rinvii e bece le promesse. Intanto i nostri giovani, il nostro futuro, la nostra prospettiva di lavoro lasciano Gela e noi madri siamo costrette ad accompagnarli alla porta e ad indicare loro una strada meno disperata. Nel frattempo non vi è traccia di bonifiche e le uniche risposte che arrivano sono le centinaia di lettere di licenziamento che le aziende dell'Indotto recapitano nelle nostre case. Uomini e donne senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, ai margini di un substrato lavorativo già tristemente penalizzato dalla situazione ambientale e territoriale. Il coordinamento delle donne ripone molta fiducia nel Presidente della Camera. Loro si definiscono donne semplici e determinate che hanno un ruolo centrale nella famiglia e nella società e non vogliono rassegnarsi al destino che questa triste vicenda potete consegnarle. Onorevole Boldrini scrivono ancora, spesso nel nostro Paese si muore di lavoro e per lavoro, ma senza non si vive. Nessun individuo dovrebbe trovarsi nell'assurda condizione di scegliere tra lavoro e salute in quanto elementi imprescindibili di una vita dignitosa. Oggi e domani chiediamo la garanzia di ambedue i diritti costituzionalmente rilevanti di cui anche lei è garante. Chiediamo risposte concrete per il territorio e la rottura del silenzio istituzionale che aleggia attorno alla vicenda. Infine pretendiamo un impegno serio, inclusivo e progettuale che prenda in considerazione le istanze e le necessità delle cittadine e dei cittadini gialesi. Questa battaglia di sviluppo e amore ci appartiene, ma non possiamo vincerla da sole.